Musica Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telebari. Partiamo subito dall'allerta meteo in tutta la Puglia, in arrivo raffiche di vento che toccheranno anche i 70 km orari. La protezione civile pugliese ha diramato così un'allerta meteo gialla dalla mezzanotte di oggi e per le prossime 36 ore. Si prevedono venti forti a burrasca dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte, precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. La giornata di domani, lunedì 29, sarà la peggiore. Recuperare il sito di Canne della Battaglia. Il consigliere regionale Ruggero Menea lancia la nuova fase per il progetto di valorizzazione della località dopo la legge in materia che ha consentito un grande passo avanti. L'ho intervistato per noi Roberto Maggi. Io sono fermamente convinto che i beni culturali che sono qui in Puglia rappresentano un giacimento di ricchezza straordinaria, sia culturale ma soprattutto di sviluppo economico e di lavoro. Canne della Battaglia, il sito di Canne della Battaglia è uno di questi esempi. È un attrattore di tipo internazionale che grazie alla legge regionale che io ho promosso nella scorsa legislatura sta finalmente risplendendo. Vogliamo raggiungere essenzialmente due obiettivi. Dotarci di un piano di gestione, quindi di valorizzazione del sito per rendere questo luogo ricco di servizi, che oggi richiedono i turisti di tutto il mondo e vogliamo anche che ci sia un momento rievocativo, quindi puntare alla rievocazione della battaglia l'anno prossimo e alla richiesta del riconoscimento UNESCO. Credo che questo possa rappresentare un momento ambizioso a cui vogliamo puntare con il concorso di tutte le forze e sono convinto che lo raggiungeremo. Il tuo cuore è la mia stella, il titolo del libro di Marco Galbiati, dedicato al figlio scomparso Riccardo, che è stato presentato mercoledì pomeriggio alla Feltrinelli di Bari. Presente all'incontro anche il giornalista Michele De Feudis. Aveva appena 15 anni e un giorno Riccardo è stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava sulle piste da sci dell'Africa, spagnendosi prematuramente. I suoi genitori però, nonostante il dolore, hanno deciso di fare ciò che il figlio avrebbe voluto, salvare delle vite attraverso la donazione dei suoi organi. Una testimonianza, quella di papà Marco nel suo libro, che permette di trasformare il dolore in speranza e positività, quella positività che Ricchi portava in qualunque posto andasse. E il titolo, Il tuo cuore e la mia stella, nasce proprio qui, a Bari, in un viaggio di ritorno verso Milano, come spiega lo stesso Galbiati. Nasce proprio da un viaggio che ho fatto qua a Bari, nel ritorno di una giornata di lavoro, e durante questo volo io ho chiesto aiuto al mio figlio e mio figlio mi diceva papà io sono qua, gli chiedo dove sei qua, mi dice sono qua fuori, guardo c'è proprio questa stella. Io faccio delle foto per testimoniare questa cosa per questa mia amica che stava scrivendo il libro e quando atterro guardo queste foto, uno cerca di cancellarla, non si cancella ed era una foto zoomata della stella. E con il flash ha fatto proprio un cuore ed è nato proprio il tuo cuore, la mia stella. Un legame, quello con Bari, rafforzatosi ancora più attraverso la più grande battaglia che papà Marco abbia mai combattuto, abolire l'anonimato tra la famiglia del donatore e il ricevente. Voglio far conoscere Ricchi e raccontare di lui a quelle persone che hanno ricevuto una sua parte. Ed è proprio Maurizio, il ragazzo di Bari, che racconta per la prima volta di Ricchi tra l'emozione del primo incontro e la consapevolezza che la sua lotta è bandiera di tante famiglie che insieme a lui stanno vincendo. La bioetica che è stato chiesto un parere da parte del Centro Nazionale di Trapianti ha dato il mio appoggio, quindi ha appoggiato la mia petizione sulla modifica della legge e quindi devo dire molto importante. Io venerdì scorso ero a Roma col direttore Nanni Costa del Centro Trapianti che mi ha incaricato e mi dà tutto il suo appoggio per modificare questa legge. Con un piede nella fossa, la mafia barese raccontata dal sottoufficiale dell'arma dei carabinieri Stefano De Carolis. L'abbiamo incontrato. Quando nasce la malavita a Bari? Estando appunto al mio studio documentale presso l'archivio di Stato ho potuto accertare che comunque la malavita a Bari nasce nella seconda metà dell'Ottocento già dal 1870. Di sicuro come associazione di stampo camorristico in effetti i camorristi baresi di fatto si erano appunto affiliati alla camorra napoletana. Qual era il modus operandi, poi così diverso da quello di oggi? Ma il modus operandi direi che è rimasto lo stesso. Quindi stessa efferratezza, stessa arroganza. È chiaro che praticamente i fini, diciamo, le fonti di guadagno erano diverse. Comunque c'erano le estorsioni, i furti, addirittura le spaccate. Le spaccate ai negozi, tabaccherie, negozi di abbigliamento, fatte addirittura con i traini. Ma quali sono gli aspetti che sono venuti alla luce dagli studi che lei ha intrapreso rispetto ai quali non aveva assolutamente contezza prima? Innanzitutto è stata una grande novità sia per me e per chi praticamente sta appunto leggendo il libro perché io per primo ero convinto che la malavita barese, quindi con la sacra coronita, nascesse negli anni Ottanta. Invece è venuto fuori un aspetto diverso, più preoccupante e più radicato sin cent'anni prima di quello che si sapeva. Una settimana di musica per le strade e i locali della città. È partita Bari Music Week dal 27 ottobre al 2 novembre. Incontri, workshop, mostre, concerti, live, sette, dj sette, nazionali e internazionali. Sette giorni di iniziative in diversi luoghi della città, dal Castello Svevo all'Officina degli Esordi, dal Fortino Sant'Antonio all'Università degli Studi di Bari. Arriveranno in città i più grandi nomi della musica contemporanea con uno sguardo particolare a quella elettronica. Bari Music Week è un'idea di The Flame ed è organizzata dall'Associazione dei Supporters con il sostegno di Polo Museale di Bari, Regione Puglia, Comune di Bari, Università degli Studi Aldo Moro di Bari e alcuni sponsor privati. Un giallo da svelare nella notte di Halloween a Terra Nobile va in scena una cena con delitto ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto a Chicago nel 1933, ovvero l'omicidio di un noto boss rimasto però irrisolto e passato alla storia come l'enigma di Chicago. Ad animare la serata gli attori di The Bang Club che si muoveranno tra i tavoli, tra una portata e l'altra facendo il mergere il pubblico in un'atmosfera anni 30. Tra interrogatori e prove si potrà arrivare alla conclusione del giallo vincendo il premio che solo un detective per spicace merita. Appuntamento dunque con Enigma a 33 mercoledì 31 ottobre alle 21 a Terra Nobile Meta Resort. Tutti i dettagli sulla pagina Facebook dell'evento. E siamo alla pagina sportiva, il Bari ospita in casa il Locri per la settima giornata di campionato di Serie D. Vediamo allora come è andata. Marfella allarga a destra per Turi, a spazio Turi, mette giù il pallone con il destro, chiede il pallone Piovanello, pallone raggiunto dal numero 17 del Bari, il cross in area di Ligori e il colpo di testa di Floriano! Per il 2 a 0 del Bari, azione micidiale della formazione di Mister Cornacchini, al trentasettesimo di questo primo tempo. Bari 2, Locri 0. La formazione di Mister Scorrano quando mancano ormai 20 secondi alla fine di questa gara. A bordo campo addirittura c'è Liguori pronto ad entrare in campo, ma a questo punto credo che l'ultimo cambio non avverrà più. Attenzione il pallone verso Simeri, attraverso tutta l'area di Liguori la conquista Amlili. Il cross di Amlili, basto per Simeri! Per il 3 a 0 del Bari, il terzo gol anche in campionato per Simeri. Ma c'è anche il fischio finale del direttore di gara, finisce qui la sfida del San Nicola. Bari 3, Locri 0. C'è un Bari che secondo me è giocato un'ottima gara, una partita che visto le occasioni del gol probabilmente si meritava anche di più. Io sono molto contento, c'è stata una reazione da partire di tutti. i ragazzi l'hanno interpretata molto bene, quindi complimenti a loro perché sono stati veramente bravi. Siamo una squadra che può giocare in mille maniere, nel momento in cui tu riesci a trovare una soluzione giusta, chiaramente poi non la muovi e vai avanti in quella maniera lì. La settimana poi rispecchia la domenica, se tu ti alleni con la testa giusta, con l'intensità giusta, abbiamo aumentato i carichi di lavoro perché secondo me bisognava farlo, ma è visto un pochettino dei dati, quindi i ragazzi l'hanno interpretata bene, ha fatto molto molto bene, una partita che si finiva 5-6-0 non c'era niente da dire. Abbiamo trovato una squadra che giocava con i tre attaccanti, li faceva rientrare poco, nel momento in cui tu salti la prima pressione è chiaro che hai dei vantaggi, visto che gli attaccanti loro poi non rientravano più di tanto, quindi da lì vai a lavorare sugli esterni, quindi metti dentro molti palloni, e mi sembra che ci siano state le occasioni, ma tante. E siamo alla rubrica di arte e cultura a cura di Isabella Cedro, parliamo oggi dell'attrice Floriana Uva e del suo spettacolo L'identità smarrita. Attrice professionista dal 1999, Floriana Uva è regista e conduttrice di laboratori teatrali, corsi di edizione e lettura espressiva. Ha lavorato in diverse compagnie, tra cui la Difference, Prometeo, Dialuma Roma, con l'Orchestra Sinfonica della città di Bari e i Teatral Musicanti, con i quali porta in tournée due concerti teatrali in Italia e all'estero. Vincitrice di concorsi letterari nazionali, collabora con emittenti radiofoniche ed è ideatrice di due format. Impegnata nel teatro sociale, sostiene varie associazioni ed è autrice, interpreta e regista dello spettacolo L'identità smarrita Alzheimer, con cui ha debuttato in un convegno a tema al Teatro Domiziano di Roma, con il patrocinio morale dell'Associazione Alzheimer di Bari, ottenendo l'unanime consenso di pubblico e specialisti del settore. La performance teatrale, arricchita da testimonianze, affronta l'Alzheimer, malattia subdola, ladra d'identità. È un percorso di forti suggestioni, i ricordi, la disperazione e il coraggioso tentativo di opporvisi per difendere l'identità che, assumendo quotidianamente contorni sempre più sfumati, è ancora oggi destinata a perdersi definitivamente. Il progetto parte da un'intuizione e da una necessità, quello cioè di entrare un po' nel problema dell'Alzheimer. e in effetti, finché non siamo coinvolti personalmente, ci limitiamo ad osservare però con un relativo distacco. Quando siamo colpiti, e nel mio caso non ho difficoltà a dirlo, ho avuto mio padre che ha attraversato questa esperienza e noi insieme a lui. Quindi la sensibilizzazione è aumentata e anche il desiderio forte di comunicare anche agli altri come approcciarsi alla malattia, come approcciarsi al paziente, cosa fare, come individuare i primi segnali. Per questo è nata questa performance teatrale. Io la definisco così perché non si può spettacolarizzare una malattia. La malattia di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa e noi siamo soliti dire che quando una malattia arriva in una casa è come un uragano che spazza via tutto. E ci tengo sempre a precisare che dietro alla persona con l'Alzheimer c'è sempre una vittima nascosta, che sono proprio i familiari. E' su questo punto che noi come Associazione Alzheimer Bari lottiamo perché sia fatta una diagnosi precoce e quindi che i familiari sappiano riconoscere i primi segnali, ma la cosa più importante è anche che i familiari siano informati e tra virgolette educati. Ciò che noi cerchiamo di fare è nella sede dell'Associazione Alzheimer. Le istituzioni ancora non si sono organizzate per un piano che possa andar bene per affrontare e seguire la persona con demenza dal momento della diagnosi fino alla fine dei suoi giorni. E anche per questa edizione è davvero tutto. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.telebari.it mentre l'informazione su Telebari torna più tardi. Grazie per averci seguito. Buona domenica a tutti. Grazie per aver guardato il video.